E' la prima volta che a Crotone si vede una mostra di questo genere, che è una mostra naif. Esatto, perché i colleghi di tutta Italia e qualcuno anche d'Europa mi hanno detto no, no, la puoi esporre, puoi mettere il nome, perché è così simile ai prodotti che vatti che non esiste altra nel passato come arte naif di questo tipo. In che cosa consiste l'arte naif? Praticamente adoprono i colori su arte morta, ecco, praticamente anche in rilievo, però si riferiscono solo a quello rispetto ai pittori tradizionali. Questi quattro quadri, diciamo, che lei ha organizzato raccontano un po' la storia anche di Crotone? Esattamente, sono tutti la storia di Crotone, tutte e quattro. Abbiamo il primo quadro, all'inizio rappresenta la memoria breve per quanto riguarda Crotone, per le nuove elevi e i nuovi giovani che non hanno vissuto in quel periodo e non ricordano e quello gli fa ricordare alcuni eventi. Questo invece è dal passato Nemoto, molto antico, di cui gli antichi greci venivano nelle colonie greche in Italia e usavano queste navi, così, di fatti una nave di queste è scritta Crotone. Poi c'è Pitagora. Dopo c'è Pitagora, Pitagora mi è venuta, cioè praticamente Pitagora, perché io sono stato al suo paese, ma molti anni fa, e se guardiamo bene il quadro, quello è il busto originale, perché è stato acquistato esattamente a Samos 40-50 anni fa, giù di lì. E l'ultimo invece è dedicato a Capocolonna? La nostra è Capocolonna, che tutti conosciamo. Ecco, gli effetti di questa mostra sui nostri concittadini crotonesi qual è? Ma speriamo di vederla, perché appena all'inizio, i primi giorni di bel tempo sono venuti in tanti ed è piaciuto a tutti. Il cattivo tempo l'ha fatto fermare. Da quanto tempo lei fa quest'arte? No, io quest'arte la faccio di tanti in tanto perché si nasce da bambini con una certa predisposizione. Io quando ero ragazzo facevo più o meno queste cose. E dopo ho dovuto fare altri lavori, avevo una famiglia a carico, perciò ho dovuto guadagnare di più. Però di tanto in tanto facevo qualche cosa. Ora col Covid non sapevo cosa fare, si è risvegliato quello che è nell'essere umano del pensiero primitivo. Fino a quando rimarrà aperta questa mostra? Sempre che me la fanno lasciare questa settimana, anche dopo Pasqua. La differenza che c'è tra un quadro normale e questa arte inaiso? Esatto, c'è una grande differenza perché il pittorio normale dipinge su tela, col pennello, certamente un grande artista. Invece questi qua bisogna mettere il pensiero, recuperare i materiali, gli adesivi veramente appropriati. E c'è un'altra cosa importante, che è il quadro centrale dove c'è la nave. La nave è esattamente intera per com'è, è tutto in metallo, metallo di alluminio anodizzato e colorato.